Buona serata possiamo dire serata perché già siamo giacenti ad arrivare per la sera. Ma questo precisare è molto importante perché sicuramente ci inoltreremo oggi presenteremo il Salmo 95. Con la gioia, la grazia e la potenza di Dio e Gesù faccio presente che ogni cosa deve essere fatto secondo i comandamenti del Signore e non secondo l'uomo perché l'uomo devia ogni attimo della sua vita e noi vogliamo essere come quelli che ubbidiscono servono il Signore con dignità. Come vedete oggi fatto dei cambiamenti potete notare che del dito del dito c'è il programma con un televisore a parete che trasmette. Ma che c'era attualmente questo profilo stesso in a volte. Dato che sono due profili non va niente. Ma dato che siamo nello stesso profilo perché ieri ad una notizia molto importante e purtroppo si sono disturbati questa notizia e stamattina mi hanno bloccato il profilo. Voi sapete di che cosa parlo della notizia e so che purtroppo l'uomo deve ubbidire anche in alto in altro. In questo momento c'è qualcuno che si è disturbato e non sappiamo che comunque andiamo avanti con questa notizia della serata del Salmo 95 e soprattutto presentiamo come sempre dell'acqua bollita a che cosa serve dell'acqua bollita. Dato che mentre avviene l'abolizione dell'acqua le cellule che sono nell'acqua muoiono tutti e resta l'acqua pura acqua pura senza nessun forma di vita Questa nessuna forma di vita Introducendo al nostro corpo non alimenta più il tumore che è sofferente di tumore o perché è in procinto di ammalarsi anche una prevenzione che non si ammala mai nessuno più con questa acqua bollita Inoltre quest'acqua bollita fa sì che toglie tutte le infiammazioni che sono nel corpo vi faccio presente che la settimana scorsa sono stato dal medico mio per un'informazione e ha visto che erano due anni che non mi facevo il controllo del sangue e ha preferito che l'indomani mattina andavo per fare questo controllo perché è molto importante Mi ha detto magari di essere controllato magari ogni due anni normale e ogni anno e così la settimana scorsa ho fatto questo controllo del sangue e dato che ho fatto questo controllo del sangue questa settimana sono andato dal medico per vedere come è andato il controllo e mi ha detto che era super la dottoressa è rimasta stupefatta come ha potuto fare lei tutto questo cambiamento nel sangue dall'anno scorso anno perché in questi due anni ha fatto un cambiamento totale mi ha detto bene io non ho voluto tanto allungare il discorso ma ci ho detto soltanto dottoressa io seguo la bevo tutto il giorno della polvere anche freddo non solo questo può fare anche i ghiaccioli la granita quello che vuole con questa perché l'acqua dato che emerse nel congelatore si fermano tutti i batteri che ci sono ancora resistente all'acqua se ce n'è qualcuno dell'acqua non putride riesce ecco perché dato che quest'acqua i germi sono quasi tutti morti ed estalla normale non si deve lasciare più di un giorno 24 ore e poi buttar base messa congelatore e poi durare diversi tempi come gli altri cibi e abbiamo chiarito adesso anche cosa fa l'acqua bollita a che cosa comporta questo ragionamento che abbiamo fatto che cosa il signore vuole dirci adesso nel salmo 95 non vedremo quei nostri occhi e con la nostra intelligenza dopo la preghiera diamo un po di tempo al microfono che ci raggiunga per non distanziarci troppo nel frattempo nel frattempo prendete una bibbia mettetevi sul salmo 95 dove c'è il testo che dice invito alla donazione io ho aggiunto deve dire perché la vedere rete se qualcuno sia venuto il solletico come me naso manchi con la spalla del bacio la testa ovunque questo come tenuta di lecce una distonia o qualche cosa che è stata da formare o di appurare o di avanzare verso una definizione più migliore chiunque può essere il medico di se stesso con queste affermazioni possiamo vedere dove siamo carenti e possiamo avvicinarci di più al mostro comportamento al mostro da fare principalmente perché è importante che noi ci controlliamo da noi stessi vediamo dove c'è carenza e sostituiamo quello che riconosciamo più migliore per essere sempre sembra all'avanguardia di cristo gesù perché perché ognuno che si va avvicinando al tempio di dio sempre più vicino giorno dopo giorno arriverà presto a una determinante avvicinamento con cristo gesù bene adesso che abbiamo chiarito anche questo vogliamo iniziare a pregare sappiamo che quando io mi accingo a pregare desidero mettermi in ginocchio sia io che tutti quelli che acconsentono a questa benedetta preghiera di accostarsi a dio e a gesù questa accostarsi a dio gesù ha un motivo nella nostra costituzione fisica mentale e spirituale quando noi ci accostiamo ai piedi di gesù automaticamente entriamo in un'enfasi di sdoppiamento personale fisica spirituale più ci avviciniamo a gesù e più ci voltiamo in quell'istante la preghiera nello spirito di dio è deciso ecco perché in questi giorni sto facendo delle evoluzione molto elevate detto i motivi di questo motivi di questo sono che mi sto avvicinando attimo dopo attimo della mia vita più vicina dio e gesù e più vicino più la mia vita si evolve e lo vedete da voi stessi quanti cambiamenti che ho potuto fare da giorno che mi conoscete fino a oggi solo non parlo rurale ma parlo singolare parlo singolare nella presenza di ogni credente di ogni individuo perché perché quando uno parla singolare avviene un tu per tu nel discorso che oggi voglio parlare direttamente sì proprio a te che sei qui davanti questa webcam ecco perché sto parlando in singolare a te presente atto che stai guardando oggi puoi avere qualcosa di meraviglioso nella tua vita se tu oggi ti inginocchiai come in questo momento mi inginocchierò io io lo farò con la mente perché sono qui davanti a questo video ma tu che sei da solo perché trova casa tua da qualche parte da solo vivere nessuno e non hai problemi inginocchiati immagine la presenza di gesù guarda i suoi piedi inginocchiati davanti a lui e se diviene possibile pace i piedi come in questo momento lo farò io ecco mi sta cingendo in ginocchio davanti ai piedi di gesù grazie questi baci sono per te mio re mio salvatore grazie signore per la gioia che tu mi doni grazie per la salute che mi hai donato grazie per tutta la forza che mi hai donato in questi giorni ancora per ieri come tu hai fatto cose sbalorditive nella mia vita questa notte ancora pensavo cosa ho fatto con te ieri e stamattina ero un'altra persona non comprendevo cosa era successo ma quando ho visto il filmato mi sono reso conto di quello che accaduto perché io ero come se ero in un sonno profondo e una trance e mio signore è stato bellissimo ciò che tu hai fatto con il mio corpo con la mia voce ti ringrazio di loro 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 a te. Attraverso questi video, attraverso il mio sito, attraverso ciò che tu mi fai pubblicare, attraverso la fede, attraverso ogni informazione plausibile della vita cristiana. Ti ringrazio mio Signore, ti ringrazio ancora per quello che è. Tu da questo momento in poi ci congederai attraverso il tuo Spirito, attraverso la tua potenza, grazie, grazie Padre, grazie mio Dio, grazie mia Gesù per tuttora buon Padre Celeste nel nome del tuo Figlio Gesù Cristo benedici soprattutto questo Salmo 95. E ti vogliamo pregare di scendere su di noi e parlare tu attraverso come preferisci. Tu sai ogni cosa che preghiamo ha costretti vicino a noi e parlato perché quando tu parli tutto il mondo tace perché c'è una diversità al tuo parlare nella tua voce della tua potenza nel tuo affetto e nell'effetto che fai a tutti quanti che lo ascolteranno. Grazie Padre Celeste nel nome di Cristo Gesù che benedetto in eterno a me avete grazie adesso che abbiamo detto di pagare a cosa staremo a leggere il Salmo 95 che si sente di grattarsi si può grattare sia delle distonie e delle zolle etici nel corpo dell'avviso delle spalle, le braccia dello stomaco dalle gambe ovunque c'è un solletico, sappiate che c'è un motivo su di voi sulla vostra vita su quello che state chiedendo a Dio, siate forti, coraggiosi e prendete atto di quello che comprenderete su questo momento di preghiera, di riflessione e di commenti, Dio attraverso il suo spirito ci elargirà a noi povere anime che siamo alla ricerca del Dio vivente in Cristo Gesù e adesso sarebbe anche buono dare un pochettino di tempo al microfono che possa raggiungere più vicino possibile la scrittura automatica come testo su Salmo 95 ci dice come testo invito alla donazione cosa vuole dire il testo forse ci vuole invitare a qualcosa di misterioso ci vuole invitare a una festa ci vuole invitare a cose assurde no questo testo ci vuole invitare al comportamento sempre più accostato a Dio e a Gesù in adorazione vuol dire che noi ci accostiamo sempre più vicino a lui per adorarlo in preghiere in lode adorazione e fa sì che possiamo sempre essere concordi con i suoi decreti con la sua parola come lui c'è lasciato questo è il significato dell'infinito alla adorazione ora tuo fratello sorella amico anche parlo a chi allontana da Dio a te e altre persone che non conoscono cosa vuol dire la parola di Dio io mi sto riferendo anche voi possiate non solo avere la possibilità di salvarvi ma anche poter provare quella gioia che il Signore vuole mettere anche a voi nei vostri cuori nella vostra anima e nel vostro spirito siate certi che se vi accostate a Dio troverete la strada che riporterà alla salvezza e al primo versetto ci dice queste parole Dio schiavo della gloria di Cristo Gesù amen era primo versetto dice venite cantiamo con gioia al Signore accampiamo alla rocca della nostra salvezza vedete ciò che ciò che può iniziato a parlare nel testo riflette già nel primo versetto perché riflettere primo versetto vedete anche i movimenti che sto facendo perché ci parla già tramite i segni del nostro corpo ci fa venire solletico in qualche punto del corpo per constatare vedete che la realtà che la realtà che siamo o vicini o distaccati ce lo fa capire con che cosa con il metro della purezza di sé noi non conosciamo Dio in nessun modo al primo solletico già si accorgiamo che siamo nella debolezza della mancanza di questo sentimento che stiamo provando quando invece la persona è vicino a Dio molto vicina Dio la sensazione che ci dà con il solletico vedete si conferma tutto quello che abbiamo fatto nella direzione che siamo si fa capire con la soddisfazione interna del cuore e dell'animo che siamo sulla strada ecco perché sto dicendo sono cose molto importanti nella vita sentirle provarle e acclamarle e come nove in questo momento dice versetto venite accampiamo con gioia al Signore accampiamo alla rocca della nostra salvezza mentre io parlavo già sentimenti di acclamazione andavano al cento per cento accostate Dio nella presenza la presenza del suo figlio Gesù Cristo vedete erano così nella direzione acclamazione presenza del Dio vivente in vista di ecco perché ho avuto il segnale del solletico su un altro ecco perché ci sono le conferme io non so voi che tipo di sentimento avete provato che tipo di solletico avete provato mentre andavo spiegando queste piccole parole in questo versetto venite cantiamo con gioia al Signore accampiamo alla rocca della nostra salvezza la nostra salvezza vedete gioisce il nostro sentimento pensando che siamo su un lato della salvezza e della secondo versetto dice presentiamoci a Lui concelebriamolo con salvi ci stiamo avvicinando la Dio siamo andati in preghiera attraverso il suo figliolo in ginocchio davanti ai suoi piedi poco fa ci siamo presentati vicino alla presenza di Dio come un transterza ai piedi di Gesù alcune come perdere maestà della potenza di Dio si sono trovati già nel giardino dell'Eden nella Gerusalemme celeste perché perché è venuto come un transterza quando noi presentiamo a Lui con modi celeste vediamo con salme incanti adorazione non abbiamo completato tutto ciò che Dio desiderano ogni credente che si accosta di questo desidera Dio da ogni anima vivente se noi già la mattina quando ci alziamo e vogliamo un buon umore mettiamoci subito a cantare a bassa voce ad alta voce come ci sentiamo decantati e vedete se siamo traumatizzati se siamo nervosi siamo un po' giù di morale mentre noi cantiamo o canticchia a Dio delle Lodi noi ci accorgiamo del cambiamento che abbiamo nell'umore della presenza come il nostro essere prende vita come nostro essere cambi anche il colore dell'astrale del nostro corpo perché quando l'uomo una donna è triste Laura che abbiamo attorno cambia colore la tristezza era un colore marrone scuro quando vedete un uomo che triste quel guardato bene lo vedete di un colore scuro se lo guardate fissamente negli occhi vedete gli occhi scuri la sua visuale dell'onda dell'astrale è colore marrone scuro perché la tristezza da triste e barra oscurisce la nostra aura e invece quando noi cantiamo siamo allegri e l'odiamo il Signore la nostra aura risplende di colori meravigliosi celeste azzurro sulla risplendente sul giallino come un arcobaleno che risplende dal cielo quando un acquazzone della pioggia finisce e compare l'arcobaleno sul cielo ma vediamo la bellissima riflessione di quell'arco vale non lo possiamo definire sul nostro corpo quella Laura che noi abbiamo quando siamo di un'ottima forma fisica spirituale e corporale ecco voluta chiarire anche questo perde il più che sono curiosi perché il nostro corpo si trova in quella situazione triste e quale motivo la tristezza avviene a volte contamina anche che ci è attorno info pensiamo anche che ci sta vicino ecco perché quando uno canticchia che ci sta vicino anche loro vengono influenzate di quella gioia che dentro di noi e vediamo che altri si aggiungono alla nostra gioia sentendoci nella felicità e così è come quando siamo tristi ed altri stiamo lo spirito di chi c'è attorno e una contaminazione come un virus però non entriamo in questo campo siamo nel campo della gioia del signore e della gioia del cristiano e dal terzo versetto versetti che poiché il signore john dio grande un grande re sopra tutti gli dei vedete poiché il signore dio grande grande re sopra tutti gli dei a volte nei primitivi parlavano di dei parlavano ognuno si costruiva una forma o una adorazione personale che si costruiva di di degli di del sole della luna della mucca da cavallo di qualsiasi forma che si era compiaciuto addirittura persone si compiacevano anche di se stesso e si adoravano loro stessi qui ci dice poi che il signore john dio grande un garrese sopra tutti gli dei non esistono dei superiore al nostro dio 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 universale al dio potente in eterno su tutti dei che potrebbero esistere nell'universo ecco perché dice poi che il signore ampio grande un gran re sopra tutti gli dei di tutto l'universo ecco il motivo dalla quarto versetto dice nelle sue mani suono le profondità della terra e le altezze dei mondi sono sue tutto ciò che tutto ciò che prosegue in questo mondo sui pianeti sulla terra sul tutta la via lattea su tutto l'universo e il suo nelle sue mani suono le profondità della terza sia tutto ciò che nelle profondità della terra sono nelle sue mani perché lui è al di sopra di ogni cosa sia sotto terra che sulla terra e sull'aria ecco sulle altezze dei mondi sono sue tutte perché sono sue lo comprendiamo con la massima certezza sapendo che noi stessi lo stesso li ha costruiti lui stesso ha detto sia la terra e la terra fu questo si vuol dire che lui l'ha creato lui e che la messa al mondo e lui è il padrone di ogni cosa era quinto versetto dice su hanno plasmato la terra asciutta vedete vedete definendo in anteprima i versetti successivi siamo messi e una linea di perfezione ecco perché dice suo e del mare perché gli l'ha fatta e le sue mani hanno plasmato la terra asciutta disse sia la terra e la terra fu quando creò tutto questo universo si accorse che c'era una parte che era tutta acqua e disse ci sia l'asciutto e così fu le sue mani hanno plasmato la terra asciutta e dal sesto versetto dice venite adoriamo infine in inchiniamoci in ginocchiamoci davanti al signore che ci ha fatti venite stasera oggi davanti ai piedi di gesù inchiniamoci a lui e adoriamo chi ci ha messo al mondo che ci ha creato chi ci ha adottato come figli come figlie si inchiniamoci e adoriamo il vedere adoriamo il dio dell'impossibile il dio nostro che ci conferma la nostra pace e la nostra gioia possiamo farlo con tranquillità mentre noi ci inchiniamo tutto il nostro essere prende evoluzione un'evoluzione spirituale che noi stessi a volte non comprendiamo cosa vuol dire questa evoluzione perché perché la vita e noi cambia totalmente mettendoci al di sotto di questa evoluzione che Dio ci mette davanti e questa evoluzione non vediamo giorno dopo giorno come lui ce lo conferma equina versetto 7 dice poiché che egli è il nostro dio e noi siamo il popolo di cui ha cura e il greggio che la sua mano conduce vedete dato che noi ci inchiniamo alla sua presenza attraverso il suo figliolo gesù cristo noi ci mettiamo in quella condizione di essere guidati da lui attraverso il suo figliolo e quando noi ci inchiniamo in questa situazione di adorare il vedere ci mettiamo nella condizione di essere affermati nella gloria di Dio e nella suo figliolo prediletto in eterno e qui dato che il greggio che la sua mano conduce ci prende con la mano in quell'istante ci conduce dove lui desidera nei pascoli erbosi riposanti ci conduce in quel punto dove noi abbiamo bisogno la sua pace dove la sua pace ci ristora i sensi l'animo l'animo la personalità tutti i punti doloranti scompaiano mentre noi ci riposiamo in quel pascolo in quel greggio in quel recinto di adorazione la nostra pace va al culmine cosa vuol dire al culmine perché prende possesso su di noi un'estasi di serenità di gioia e di felicità perché perché abbiamo raggiunto il potere dell'essenza divina trovandoci accostate al pastore che conduce il greggio di Dio Gesù Cristo nostro amato salvatore diamo spazio al microfono che raggiunga la destinazione rallentiamo un pochettino e bellissimo questo sistema di registrare perché mentre noi presentiamo è stato firmato presentando l'altro profilo registrato e va in onda in questo momento vedete un filmato mio più quello della missione paradiso fratello Giuseppe sta registrando ciò che signorilmente dal suo spirito suo cuore bene e micro raggiunto ecco proprio questo mi diceva lo spirito di rallentare perché mi ha fatto comprendere che microfono ha raggiunto il limite dell'epoca devo salvarlo siano altamente non registra più e poi inizieremo con una nuova pagina e lui comincia a scrivere nuovo è come la nostra mente quando registra cose assurde e molte cose e non scarica ai piedi di Gesù avete visto adesso che io ho salvato la pagina che aveva raggiunto un limite limite è che non può scrivere più perché in ogni pagina c'è un debito di tanti mila parole quando si raggiungono questo limite non scrive più micro bisogna salvarla e aprire un'altra pagina questo è una similitudine al nostro cervello quando l'uomo diventa triste o ha dei problemi o subisce dei trauma psicologici del cervello quando l'uomo arriva al suo limite perché tramite le riflessione che fa in quelle specifica situazione si moltiplicano al cento per cento la notte non dorme più bene sogna sogni negativi negativi e lo spirito di quella persona si rattrista e va in depressione ecco perché l'uomo ha bisogno di uno scarico psicologico ai piedi di Gesù andando e portando tutto ai piedi di Gesù avviene allo scarico psicologico come quello che è successo poco fa in questa pagina quando io ho salvato la pagina precedente è come quando io mi scrollo tutto ai piedi di Gesù questa è la similitudine quando si va in preghiera ai piedi di Gesù si scrolla tutto ciò che noi commettiamo sia di male che sia anche di bene perché dico si rimane gangli bene quando noi commettiamo un peccato e lo confessiamo ai piedi di Gesù peccato viene dimenticato da noi perché ci siamo liberati da quel peccato e lo stesso quando noi scarichiamo le cose belle dentro di noi poi c'è l'emozione che noi abbiamo vissuto quell'emozione e scarichiamo con i cantici e lode a Dio attraverso Gesù e così scarichiamo sia bene che il male i piedi di Gesù e la nostra fisica si svuota al cento per cento ecco perché siamo di nuovo pieni di spirito e di emozione viva non quando siamo pieni e ci fa la testa ecco perché lavoro è sempre cifra ma la testa e dobbiamo prendere delle pillole per calmarci la testa è inutile sopportare queste pene che ogni volta cifra ma la testa e prendere queste pillole perché rischiamo di male in peggio con che cosa quando noi non ci affrettiamo a scaricare piedi Gesù e prendiamo le pillole e ci comportiamo sempre in questo modo arriva al punto cruciale che lo spirito della situazione psicologica dice è tu non vuoi scaricare adesso scarico io automaticamente e ti creo e ti somatizza una malattia ecco perché avvengono le malattia corporale tutta la debolezza che c'è dentro di noi la distonia nel cervello e cervelletto nel dipinto questo l'amo si scarica automaticamente da sola e va a colpire ovunque nel nostro corpo può colpire nel cervello stesso può colpire in un braccio può colpire lo stomaco può colpire una gamba nei ginocchi può colpire e può far venire un tumore vai dove scarica questo scarico psicologico fa danno ecco perché vi invito a tutti quanti di scaricare voi ogni giorno ogni attimo che avete del tempo mentre camminate ora che sapete che scaricando tutto quello che avete lo vedete come il microfono adesso è più veloce mi spiego io ho salvato la pagina e ne ha fatto un'altra lui invece sta lavorando sta memorizzando tutta la pagina che noi abbiamo memorizzata salvata lui la sta analizzando sta copiando le parole che abbiamo detto ed è più veloce ecco avviene e quando noi ci accostiamo a gesù e presentiamo tutto il nostro male la nostra vita la nostra vita prende la nostra vita prende vivacità più veloce siamo più vivi i nostri occhi brillano di più la nostra fisionomia diventa di un colore più bello più gioioso ecco perché c'è la similitudine come in questo momento nel microfono e nella pagina che abbiamo salvata che si metteva molto più tempo ecco ecco questo vuol dire stando vicino a qualcuno che una fonte di vita divina anche lui prende divinità calore amore e potenza e qui ci dice ancora nel sesto versetto dice verità dobbiamo e inchiniamo ci inginocchiamoci davanti al signore che ci ha fatto lui che ci ha fatte eccetera dato vita e noi ci inchiniamo davanti a lui attraverso il suo figliolo come nel settimo versetto come nel settimo versetto dice poiché egli è nostro dio e noi siamo il popolo di cui a cura gregge che la sua mano conduce ci prende per mano attraverso il suo figliolo e ci conduce nei pascoli dove ci porta con la conoscenza della verità della gioia della saletta e della versetto 8 dice oggi se udite la sua voce non indurite il vostro cuore come a malinda come nel giorno di massa nel deserto vedete quando qualcuno si accosta vicino all'eterno attraverso gesù e comprende che sta parlando di accostarsi sempre più vicino e di ricercarlo trova quella serenità con la pace quel desiderio di trovarsi sempre più vicino a quella persona perché è conscio sicuro che quella persona non porterebbe più vicina di questo e già come quando dall'adrenalina al bambino e cioccolato perché perché gli dà la sensazione di un amico di qualcuno che lo vuole bene e quel bene si dimostra su di lui con l'effetto della gloria di dio e qui vediamo come nel versetto 9 dice quando i nostri padri mi tentarono quando ei vostri padri mi tentarono mi misero alla prova sebbene avessero visto le mie opere non tendiamo signore come tentarono i nostri padri anneriva perché misero addio alla prova di ciò che desideravano non mettiamo alla prova il signore noi sappiamo che signore potente se lui dice qualcosa e noi lo ascoltiamo meritiamo la sua fiducia su amore della sua perfezione non tendiamo dio come fu a massa nel deserto e qui nel nel decimo versetto dice 40 anni ebbi in gusto quella generazione e dissi è un popolo dal cuore traviato essi non conoscono le mie vie signore in quel momento si discostavano di questo popolo che dopo 40 anni ancora prometteva sempre alla prova non comprendendo che dio è sempre dio sembra unico che non cambia mai perciò se dio si è comportato bene nel passato non tendiamo no siamo sicuri certi che dio è sempre uguale perciò accostiamoci a lui sempre con un sentimento di gioia di amore e non tendiamo di dire o signore fare questa cosa perché possa avere una prova no è sbagliato accostiamoci a lui sempre con un sentimento di pace di amore e di perfezione di 15 dice di gesù versetto è ultimo versetto perciò perciò giurai nella mia ira non entreranno nel mio riposo come infatti tutta quella moltitudine di frecce girare 40 anni nel deserto finché tutti quei padri morirono tutti i suoi figli presero il loro posto entrarono nel paese che aveva giurato dio ecco questo è una grande misericordia di dio lavorazione spirito amore e potenza e quando oggi è possibile che siamo da soli che non abbiamo nessuno che ci guarda e dobbiamo dare conto mostriamoci come si prostrò davide per terra con le mani divaricate le gambe divaricate con la pancia per terra e la faccia a terra e adoriamo il dio dell'impossibile chiediamo tutto ciò che noi desideriamo non allarghiamoci a chiedere perché quando chiediamo chiediamo molto perché tutto quello che chiediamo noi terremo si è chiesto sapienza con dolcezza con amore e con ringraziamento e bene adesso che abbiamo finito di leggere questo salmo 95 ringraziamo il signore in preghiera e adoriamo se vi è possibile inginocchiamoci ai piedi di gesù adoriamolo e ringraziandolo portiamo davanti al suo figliolo la nostra nono buon padre celeste qui ci inginocchiamo e ci proseguiamo con la faccia a terra come fu davide davanti a tuo cospetto e noi in questo momento ci stiamo prostrando davanti ai piedi del tuo figliolo gesù ti preghiamo padre di adoriamo di glori richiamo tendiamo grazie per tutto quello che tu stai facendo nella nostra vita 11 dall'alto e donaci quella pace con la tranquillità che in questo momento stiamo pregando ti preghiamo nel nome del tuo figliolo gesù cristo che siamo prostrati qui davanti ai suoi piedi e baciamo di nuovo il piede gloria a te padre gloria a te mio signore mio gesù tutta la gioia sia a te padre e al tuo figliolo in eterna grazie a padre ancora per noi padre tutte quelle che siamo qui presente in preghiera ancora ti preghiamo di benedire tutto il mondo intero le vedove e gli anziani bambini e drogati incarcerate tutti quelli che sono in gomma signore benedice che possono trovare la pace il risveglio del comma benedice il signore ancora tutto il mondo intero che possa trovare la misericordia tua signore sappiamo che quando noi chiediamo siamo sicuri che otterremo perché la tua misericordia è illimitata e più chiediamo più riceviamo stasera non finiremo mai di chiederti di benedire tutto il mondo intero tutti gli ammalati carcerati bisognose le vedove divorziate di signore quando anche ancora ci sia un altro la mano alzo la mano perché possa tu benedire il resto che io in questo momento non penso ti prego benedice i nostri familiari si genera la mia nuova ancora quanti ce ne siano vere degli signore che possa trovare la pace con la gioia di cristo gesù ti ringrazio padre per questa sera già elargito questa benedizione solenne in questo salmo 95 dove c'è ancora tempo preferisci che faremo seguito salmo e che possiamo trovare dignità sicurezza potenza in cristo gesù grazie padre nel numero tuo figliolo che tu hai benedetto in eterna a me a me negare nella grazia adesso che abbiamo finito ringraziamo ancora di quelle che hanno ascoltato e visto questo salmo e ringraziamo anche chi si impegnerà a trasportare questo salmo in tutti i suoi amici condividendolo nei gruppi nei profili nelle ciabatte whatsapp ancora nelle realtà sociali di borghine esistono che possono essere condivisi e aiutare e aiutare il prossimo come io in questo momento sto aiutando voi siate consapevole che ciò che facciamo per il popolo di dio dio lo fa a noi e noi ne facciamo una parte al popolo di dio ma dio ce ne ritorna dieci volte di quello che noi facciamo perché dio non è un dio misero è un dio dell'abbondanza e questa abbondanza si riflette su tutti noi bene care nella grazia diamo tempo al microfono che si va avvicinando e mentre lui si avvicina io vi saluto nella pace del signore a tutti quanti nel nome di cristo gesù e quattro baci ora e più spirito mio